22 marzo 2023 si celebra oggi la giornata mondiale dell'acqua, un bene prezioso, un bene che significa vita, un bene primario troppo spesso dato per scontato, ma che non lo dà per scontato affatto. Marche Multiservizi e il Comune di Gabiccia che oggi hanno deciso di inaugurare in questa data simbolica la seconda casetta dell'acqua del territorio comunale. Ce ne sono decine in tutto il territorio provinciale gestito da Marche Multiservizi, casetta dell'acqua che offre acqua potabile, microfiltrata che viene prelevata dall'acquedotto gestito da Marche Multiservizi ed eroga acqua a 5 centesimi al litro assolutamente di alta qualità. È una giornata di sensibilizzazione e quindi è l'occasione giusta per ribadire alcuni concetti. Intanto ecco l'acqua dell'acquedotto che è un'acqua buona, pulita, controllata da oltre 160 analisi che Marche Multiservizi fa continuamente su tutti i punti di prelievo. Quindi siamo contenti che ci siano la scuola, ci siano i cittadini, quelli più giovani, quelli più sensibili e anche più permeabili a questi concetti, a questi temi sulla sostenibilità ambientale. Saranno i cittadini del futuro e quindi siamo contenti anche della partecipazione della scuola. Non è la prima casetta dell'acqua che inauguriamo, ce ne sono tante nel territorio e quindi come azienda cercheremo sempre di collaborare con le amministrazioni e con lato per questo tipo di iniziative e per tante altre che ci consentono, come dicevo, di tenere alta l'attenzione su quello che è il valore di questa risorsa molto preziosa. Ormai anche per noi il lavoro è facilitato da quello che succede a livello nazionale perché ormai su tutti i giornali è una delle notizie principali, questa della siccità e dell'utilizzo virtuoso dell'acqua. Questa casetta dell'acqua di Gabice Mare è stata inaugurata in Viale della Vittoria, si abbina a quella già presente nel territorio di Case Badioli, una casetta dell'acqua che ha molteplici significati non solo per il valore e la qualità dell'acqua potabile ma più in generale dell'ecosostenibilità, come ad esempio l'emissione di plastica che viene ridotta drasticamente utilizzando queste casette, rifornendosi di acqua in bottiglie di vetro, bottiglie e borracce che sono state donate oggi agli alunni della scuola media Lanfranco che hanno partecipato al taglio del nastro. Con la crisi idrica che c'è è già un segnale di riuscire a ottimizzare l'utilizzo ponderato dell'acqua e poi c'è il discorso di sostenibilità ambientale, ci troviamo all'interno di quest'area ecologica perché da un lato c'è la casetta dell'acqua, qui alle nostre spalle c'è anche le colonine di ricarica, quindi sono dei servizi che vanno verso quello che è l'obiettivo della sostenibilità ambientale e della riduzione dell'inquinamento, perché se pensiamo alla casetta dell'acqua, al di là della possibilità di dare ai cittadini e non solo la possibilità di utilizzare l'acqua del nostro acquedotto, naturalmente trattata e microfiltrata, ci sarà una sensibile riduzione di utilizzo di plastica, ma anche della stessa plastica che viene poi trasportata, quindi con una riduzione dell'emissione di CO2. Quindi sono tutte piccole azioni che però poi sommate possono veramente fare la differenza non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e mondiale, quindi sono azioni che poi vanno anche a inserirsi nell'ambito della bandiera blu, che a Vicemare si contraddistingue per il numero elevato di bandiere blu, dove c'è anche il tema dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, dell'utilizzo dell'acqua, della riduzione dell'utilizzo delle plastiche, eccetera. Quindi sono tutte azioni che hanno come finalità quella di curare e preservare l'ambiente.